ok andiamo contro the avengers questi dicono che so forti andiamo a vedere intanto classifica dove stanno ecco una vinta una persa vediamo un po come se la cava noi ragazzi tanto andiamo a prendere torre poi vediamo sto bevendo bonderberg vedete passion fruit al gusto frutto della passione è uno sparkling sparkling drink niente di che vabbè partiamo con la guerra andiamo subito in guerra con la torre mentre entro con i tiratori andiamo a riparare il stampagretto grazie a tutti dai, ce la potremo muovere, ancora 3 via, ecco, veloce, 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 vediamo se sono forti, tanto la torre se l'hanno presa qualcuno con me dovremmo avere la presa, dovremmo, no, mi dà attacca, che coglione, allora, io intanto lo attaccavo, vediamo se sto armando, niente, l'accampamento è già stato distrutto, faccio mostrare, a me va dentro, Milano, facciamo questo, ho attenzione a carla, è meglio ammazzarlo subito, io ho sbagliato perché se facevo il circo, non dov'era, non c'era, è meglio ammazzarlo, comunque, dov'è che partono il circo, non ci partono proprio, dov'è che partono il circo, non scusa, io non l'ho capito, niente, questo già l'abbiamo scritto, Milano Negro addirittura, cassa, vediamo, Sì, vedi che sono separati, e il comando rompe le palle, stacco lui perché così, magari lo fa particissimo, risuscitatore non vado io, sto nella merda più totale con un forrato non dà male questa mi ha scaricato l'Andrea sicuro niente questa è andata possiamo anche passare senza perdere altro tempo eh mi è andata male inutile che continui a giocare e bravo Castle l'andremo in primo esempio ci dovremmo andare a quello altro e in che schiappio e qui si sono sicuramente meglio degli altri che dicevano che palle sto dito mi curo il mio occhio è molto male non c'è altro che non c'entra niente e continuo a curare palle ma no finalmente sono riuscito a uscirne fuori ma che cazzo è molto pronto oh sono rimorto per me manculato alla grande erino manculato alla grande sono rimorto un'altra volta bravo belle difese belle difese con i torri ovviamente gli abbiamo lasciato i torri sbaglio disumano proprio ma infatti vinciamo difese diciamo che mi ha detto abbastanza male qui abbastanza male però va bene dai abbiamo preso la torri d'attacco ma non basta non basta per me ovviamente bravo belle difese comunque niente male vabbè togliamo sto Thomas c'è tutto un mito questo che si scariranno veramente meglio abbiamo un mito e vabbè ci sta vediamoci sopra che è meglio la torre se l'ha sorpresa di difesa perché rompe il cazzo bravi 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 queste belle difese qui e qui non sto passato per ho voluto andare qui verde ma va bene diciamo che noi stiamo abbastanza resistendo tranquillamente due schianti mi ha detto male ma una non mi ha detto male diciamo che poi ce la rivediamo voglio rivederla un po' questa torre non mi ha detto male questa torre non mi ha detto male è che ho sottovalutato Erin ovviamente non avendola mai sfidata io mi ha detto male proprio i Tani Zero e Andrea e va bene diciamo che stanno chiudendo quindi diciamo che è inutile che io gli vado a dare sostegno pregherei soltanto la tanica quindi andiamo a vedere un po' non ci hanno mai attaccato e molti sono assenti di loro facciamo solo uno gli altri ne hanno provato ad attaccare la torre di difesa chi si è difesa prima femenziata c'è belle armi è una bella formazione la torre di difesa mi ha detto veramente male mi ha schiantato due volte perchè lo schianto due volte Erin disattacca il otto via disattacca il male mi ha schiantato via su uno e sull'altro va bene non credo due volte che su uno cazzo mi ha schiantato due volte non credo no per scrivere doppio ma in teoria ho fatto solo un attacco così e se poi mi ha suddividere castle sentite questi due qui castle e re è riparato questo potrei anche prendere la torre fare un attacco in torre e riandarci ma non credo che i miei compagni vado a prendere la torre quindi niente aspettiamo useremo tu non vuoi questo? ti vuole? non vuoi questo? non vuoi questo? non vuoi questo? no 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 non vuoi questo? ok non vuoi? ok Prima o poi capiteranno forse i coffi, sì, prima o poi troverò i coffi come un trovo a regione nostra, sicuramente. Sarà divertente, sarà divertente. Andrò sicuramente a vedere i patti che hanno incontrato e che hanno incontrato pure il coffi, così tanto per... Allora, diciamo che una ranica non te l'ha avuto. Si vede, si dipende perché non è male, non è male la ripresa che c'ha. Non è male. Però se dovresti andare con uno scudo che gli estorma, che fa stordimento. C'ha lo scudo blu, un rosso, il comando verde, un giallo a ventaglio e un rim che servisce che rompe le palle. Questa è rimasta in vita, no? Sì. Aspettiamo 40 secondi, vediamo un po' come attaccarlo, più che altro. Vediamo un po'. Allora, potrei andarci con questa, però... Come io lo secco Garrett? Il problema è seccare di Garrett. Ma c'ha quel... Quel cazzo di coso che rompe le palle? Se no dovrei fare, mi attacco misto. Del tipo... Dovrei fare. Metto l'Andrea che comunque fa... Vi lascio magna con questo stordimento. E poi mi metto un'altra Andrea perché devo tanto perdere. Un comando. Un neutralizzatore che serve sempre. Un resuscitatore anche. Semplicemente che parta presto. E ci andiamo a mettere anche, visto che lui c'ha un comando... Il comando, se lo andiamo a mettere giallo... Gli andiamo a mettere un botto di difesa. Così. Il resuscitatore non lo facciamo morire. E questo lo facciamo, vediamo. Il resuscitatore non lo facciamo morire. No, assolutamente. Allora, proviamo questa soluzione qui, vai. Ci ha messo Maria. Fermi tutti. No, non ci andiamo più così. Ci andiamo così. Ci ha messo Maria. C'è il cambiatore carto in tavola. Maria non ce l'ho. Prova 400 danni. Meno 30 attacco e disorienta per un turno a una fila di minaccia. Tutti i compagni dicevano che ti attacco in bonus o metri di pa' quando attaccano. Allora, visto che questo è la parte subito, tu vai d'attacco e io invece ti muoto. Ha fatto partire subito le orecchie. Non è che non ti preoccupa più di tanto. Maria disorienta, andina, rompe le balle. Non ci riusciamo a fermarlo. Ah, faccio un altro attacco. Ok. No, niente. Era Erin che rompeva le balle. Ci ha dato anche la tanina, grazie. Quindi va bene così. Intanto lui non fa altro che schiantarsi. Ha riparato per schiantarsi. Andiamo a vedere. Si è difeso, bigchio da lui. E invece ribella subito l'attacco da lui. E bravo questo, bravo ragazzetto. Bravo ragazzetto. Però noi indistrutti. Finora. Non c'è stato indistrutto da quando ha cominciato la guerra. Questa è una cosa bellissima. Quindi fa attesto quello che ho detto dall'inizio. Non so, bastate sette guerre per capire che serve contro cui stiamo. È veramente scarso. Ci sono varie azioni che hanno vinto il primo posto. Quindi non vorrei che loro se la giocano veramente nel server loro. Ecco, ho spiegato anche il fatto perché sono abbastanza incazzati del fatto del misto che non mi piace. Poi il fatto dell'orario. Da loro adesso saranno tardi. Se mi hanno detto che noi erano le 4-5 di mattina. E da loro erano le 9 di sera. Adesso andranno a dormire. E vabbè, intanto stanno a tirare un po' troppo per le lunghe. Contro sti The Avengers. Ormai 15 minuti. Tanto mangio le patate. Ho preparato qui. Quando tornivate. Siamo troppo forti. Vabbè, scaricheranno al primo a ruotarsi perché c'erano. Avranno preso questa. E quindi se mette una difesa particolare scaricano al primo sì. Ma questo riusciamo a ammazzarlo o no? A parte che tanto. Eh, che ci frega più di tanto. Insomma, stiamo a... Oh, i Nacitos si stanno a muovere. Ma non credo che... abbiano vita facile contro i Warriors e gli Ormai. Perché noi ci abbiamo giocato contro veramente scherzi. e tutti gli altri... Bah. Ok, ragazzi, è finito. Intanto io parlo male dei miei ucini qui sopra. Quindi... e... L'atto a sih i un i. Ah, unions。 Grazie.